Marco, gli extraterrestri come Astar Sheran hanno un'anima come noi? Hanno un'anima, sicuramente non come noi, migliore della nostra. Sono gli Astar Sheran che sono sette, perché Astar Sheran è un titolo, non è anche qui un nome proprio di persona, è un epiteto, un titolo che identifica una funzione. Astar Sheran significa, il linguaggio cosmico significa capo, santo, comandante, santo, capo, santo, i santiner. E quindi Astar Sheran è un essere, un cristico, un essere della sesta dimensione, è uno dei sette cosiddetti arcangeli, usando questo termine desueto, arcangeli. Però sì, è questo Astar Sheran. Quello nella fattispecie dei libretti famosi di Astar Sheran, o che si firma Astar Sheran come fosse un nome proprio, è quello che conosciamo con il nome di arcangelo Michele, Michael, quis ut Deus, chi come Dio. Anche quello è un nome che identifica, che dà un messaggio, ecco. Astar Sheran, certo, loro hanno un'anima. L'anima la si perde, tra virgolette, nella settima dimensione. Perché nella sesta dimensione arcangelica, cristica, si ha ancora una parte di anima, cioè di astrale. Ci sono tre parti spirituali e una di astrale. Poi si perde quella parte di astrale nel puro spirito della settima dimensione, degli Elohim, i quali comunque possono decidere deliberatamente di manifestarsi come esseri astrali o come esseri appunto di luce, come Adoniesis. Guardate la foto di Adoniesis. È una loro libera scelta e possono anche decidere di manifestarsi in un corpo fisico. Loro possono crearsi un corpo fisico istantaneamente, se vogliono. Sono delle deità. Appunto, loro hanno l'agnosi. Avere l'agnosi significa questo. Significa saper fare questi prodigi, controllare completamente la materia e l'astrale, con la potenza della intelligenza spirituale. Questi esseri lo sanno fare, quindi anche il volto fisico di Astra Sheran è diverso dal suo volto astrale. Guardate le fotografie divulgate. L'immagine e il disegno divulgato dal gruppo della pace di Berlino del volto fisico di Astra Sheran è in un modo. La fotografia, perché di fotografia si tratta, del volto astrale di Astra Sheran, divulgata dal grande Eugenio Siragusa, è diversa dal volto fisico, cioè sembra un'altra persona. Si vede ad esempio la sua androgenicità, no? Il maschile e il femminile perfettamente uniti. È diverso il volto astrale. Ed è una sua, comunque, manifestazione. È sempre la stessa identità che si manifesta. Grazie a tutti.